Secondo IOM c'è questa diminuzione nelle diagnosi del tumore, ben 2.000 in meno rispetto al 2018. Sì è vero, ogni anno IOM che è la nostra associazione dell'oncologia medica italiana fa un censimento di tutti i nuovi casi di tumore, ma non solo, anche la sopravvivenza, la diversa incidenza per regione, per città, quindi quest'anno siamo tutti felici perché la tendenza è in controtendenza. Rispetto al 2018 abbiamo circa 2.000 pazienti in meno con nuove diagnosi di tumore, quindi questo è un dato davvero molto molto confortante, siamo molto felici di questo. Questa tendenza è rispettata anche Piacenza? È rispettata anche Piacenza perché questi dati derivano dai registri di tumore, quindi che sono la struttura più affidabile, poi non è perfetta neanche questa, che alcune carenze poi ci sono, che vanno sistemate, però è il dato ufficiale più affidabile. Diciamo che ci sia per alcuni tumore a tendenza un po' al calo, era già anche negli anni precedenti, però che globalmente un numero così importante sul territorio nazionale italiano, si parla di migliaia di pazienti con meno diagnosi di tumore, è veramente molto rilevante. Più diagnosi al nord rispetto al sud, come mai? Anche questo è un dato che si conferma negli anni, i fattori sono tanti, probabilmente anche il fattore dell'alimentazione che al nord risente un po' meno, o risentiva un po' meno negli anni, oggi ci stiamo adeguando e imitando per fortuna un po' il sud, la dieta mediterranea, si chiama mediterranea appunto perché nel sud era applicata già da tanti anni, da secoli probabilmente, e quindi cosa che influenza l'incidenza del tumore? Il nostro comportamento prima di tutto, ciò che mangiamo, il fumo, la sedentarietà, e quindi sono fattori, noi al nord mangiamo più ricco, più grasso, mangiavamo, e quindi questo sicuramente ha un impatto, perché i tumori che vediamo adesso risentono di ciò che abbiamo fatto 30 o 40 anni fa. Ma la trasmissione genetica è sempre molto importante? È importante ma è rara, cioè è importante perché riusciamo a identificare i geni che possono influenzare la trasmissione del tumore, però da un punto di vista numerico è inferiore al 5%, fatto 100, perché la trasmissione genetica non va confusa con la familiarità, la familiarità vuol dire che una persona ha la predisposizione ad ammalarsi, invece quando c'è un gene che si trasmette c'è proprio l'ereditarietà, quindi la familiarità, certo, è relativamente frequente per il tumore del colon, della mammella, bisogna evitare i fattori di rischio che poi l'influenza, l'insorgenza del tumore. Le speranze di guarigione? Le speranze di guarigione per alcuni tumori molto lentamente, per altri più velocemente, però vi è una tendenza al continuo miglioramento nel corso dell'ultimo decennio, anche tumori difficili da guarire, come il tumore del pancreas, che è ancora davvero un ostacolo difficile, però cominciamo a vedere delle persone che dopo una chemioterapia vanno all'intervento e il tumore prima inguaribile diventa guaribile, quindi questa è una tendenza che ci rincuora tutti, pazienti, parenti, medici e sistema sociale in generale.